Uno dei contendenti addirittura è stato colpito al volto con una cesoglia di 50 centimetri finendo così in ospedale, mentre gli altri sono stati sorpresi in preda ai fumi dell'alcol. Ancora un fatto di sangue nei giardinetti di Campo di Marte che questa volta però si è concluso con tre denunce. L'operazione dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Arezzo si è svolta questa notte nel corso di un servizio di controllo del territorio. La violenta lite infatti si è accesa attorno alle due ed è stata subito segnalata ai militari da un cittadino. Gli uomini dell'arma sono così intervenuti sul posto ed hanno ricostruito la vicenda ascoltando alcuni testimoni e identificando poi i tre soggetti che avevano preso parte alla rissa. Uno di questi, risultato clandestino, è stato colpito violentemente al volto con una cesoia lunga oltre 50 centimetri, poi ritrovata nascosta tra i cespugli degli stessi giardini ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Gli altri due invece erano in evidente stato di ebrezza alcolica. Tutti e tre già noti alle forze dell'ordine sono stati quindi denunciati per il reato di rissa aggravata e due sanzionati per la manifesto ubriachezza in luogo pubblico.